buongiorno benvenuti alla segna stampa oggi in diretta per chi riesce a vedermi in diretta vi la zuppa di poro vi ricordo che questa sera le 19 ci sarà 105 matrix e sul radio 105 allora ve lo dico subito chiaramente oggi per un liberale uno dice legge giornale un liberale ed è sconfortato ed è sconfortato quello che c'è oggi è del tutto evidente la dittatura intellettuale economica e politica dei pannolini e dei pannoloni come ha titolato oggi libero cioè dei giovani che non riescono a curarsi da soli e dei vecchi che non riescono a curarsi da soli per cui ci deve essere una fascia di mezzo cioè noi che ce ne occupiamo sia dei piccoli sia dei grandi in realtà molti grandi sanno occuparsi di loro stessi da soli e non hanno bisogno di alcuna assistenza così come molti giovani i migliori non hanno bisogno di alcuna assistenza ma si occupano di se stessi da soli se ne vanno oppure si occupano in italia di fare il mestiere che gli è più congeniale partiamo dalla dittatura dei pannoloni la dittatura dei pannoloni si incrocia con il pannolone per definizione cioè prodi d'alema versani cioè questo giro di sinistra c'è anche il pannolone di berlusconi e non vi preoccupate state state tranquilli voi che siete anti berlusconi sapete che io non lo sono ma ce n'è anche per lui oggi però la vera dittatura dei pannoloni è quella dei prodi dei bersani della camusso gente ridicola dal mio punto di vista e che oggi sta utilizzando il grimaldello delle pensioni per rompere le balle al governo gentiloni e rompere le balle al pd va bene e oggi c'è un bellissimo pezzo sull'inchiesta di francesco cancellato in cui dice beh ma insomma questo governo ha dato di tutto ha dato molto più di quanto si aspettavano ai ai alla cgl e alla cisle la will tra te che cisle e will sono d'accordo su questo diciamo riscrittura dell'aumento dell'età pensionabile perché quello che si può ottenere oggi si possono escludere alcune categorie si può evitare che nel futuro gli scatti siano così alti ma poi dico io cosa che nessuno dice ma che cazzo c'entrano i sindacati con le pensioni fate fate i sindacalisti non fate i pensionati i pensionati sono i pensionati ci pensa già berlusconi diciamo così il per quanto riguarda i lavoratori forse dovreste occuparvene perché se non ci sono lavoratori non ci saranno soldi per i pensionati non ci saranno soldi per il welfare non ci saranno soldi per assistenza non ci saranno soldi per le scuole non ci saranno soldi per la sanità o no invece la cgl si occupa soltanto della dei pensionati tanto tant'è che ieri ovviamente la camus insieme a bersani che non viene mai ovviamente a matrix l'amico bersani non viene mai a matrix perché loro hanno il loro giornale di riferimento che si chiama lucia annunziata quindi d'alema bersani eccetera vanno lì dalla lucia annunziata per attaccare renzi e renzismo più lo attaccano e più mi sta simpatico perché questa roba delle pensioni veramente mi fa venire il sangue al cervello questi gli hanno concesso di tutto ma la cgl non ci sta cis le will invece si i pensionati che seguono la zuppa di porro andassero a vedere bene che cosa è la questione di oggi e capirebbero che è del tutto strumentale quello che sta facendo la cgl soltanto per rompere ovviamente le scatole a a renzi al pd e a dare un grande appoggio al movimento mdp c'è una telenovela che sembra peggio del segreto ma chi se ne frega fassino che media pisapia che è diventato il padre della patria ha fatto il sindaco di milano diventato il padre della patria a ragione sallusti in cui dice nota nota una cosa molto banale cioè che renzi doveva rottamare questo paese doveva rottamare il pd ed è visto e si è visto rottamato dai comunisti cioè dalla sinistra della sinistra dai pisapia pisapia figlio di un grande avvocato milanese proprio esempio tipico molto una persona deliziosa educata per bene ma tipico esempio della sinistra gauche caviar di milano ma la sinistra vera quella tosta non la sinistra renzi democristiana la franceschini quella proprio dei comunisti straordinario quindi il fatto come nota benissimo sallusti che venga consegnato a sinistra la rottamazione del pd in questo grande casino voglio dire non siamo i soli basti pensare che in germania stanno litigando per le stesse cose la famosissima e grandissima e straordinarissima merkel non riesce a fare un governo nella solita germania proprio per due motivi uno ambientale cioè l'utilizzo del carbone l'altro invece è l'opposizione che liberali ci hanno cioè il partito di centrodestra tedesco nei confronti dei ricongiungimenti da parte dei siriani quindi immigrazione direi che però c'è un secondo corno dei pannoloni come il titolo oggi e dei pannolini come il titolo i pannolini sono quelli del virgilio cioè che ancora 30 anni si fanno le canne i genitori che sembra che ne abbiano diciotto li giustificano perché dicono sono stressati giuro che è venuto questo in un con un c'è sui giornali oggi in un colloquio dalla preside e i genitori del virgilio ma riguardo a berlusconi fatemi dire che anche la sua oggi sul giornale con grande evidenza la sua tesi per la quale è necessario un ministro da un ministero da terza età bisogna aumentare l'età pensionata bisogna aumentare le pensioni a mille euro le minime per 13 mensilità e bisogna darla soprattutto anche alle casalinghe mi sembra una buona idea perfetta per rompere completamente i nostri conti pubblici e per allargare l'assistenzialismo io dico uno si sveglia liberale e trova oggi da una parte la cgl l'altro berlusconi che ci dice che ci vogliono le pensioni per le casalinghe che mi sembra bisogna per spiegare il cavaliere secondo me ce l'ha questo dna liberale ma i soldi per fare queste cose qua vogliono dire maggiore tassazione e siccome il presidente l'ex presidente del consiglio ci ha spiegato che la tassazione lui non la vuole io voglio sapere questa sacra e santa idea di pagare e di dare la pensione alle casalinghe quelle risorse da dove le prende presidente berlusconi ci farà sapere attraverso brunetta probabilmente nelle prossime settimane dove le prende ma ho qualche dubbio che sia questa la soluzione per rilanciare un paese cioè le pensioni alle casalinghe penso che un paese come il nostro si possa risanare con le stesse ricette che berlusconi diceva nel 94 non con quella delle dentiere e delle pensioni minime poi se questo serve per vincere le elezioni e beh vabbè allora vale tutto così come valso tutto a ostia dove per vincere le elezioni il movimento 5 stelle pur avendo preso il 30 per cento le ha vinte si tratta della tredicesima città italiana non è ostia un municipio una piccola circoscrizione è una vittoria importante momento 5 stelle ed è quell'importante foto opportunity per la raggi finalmente dopo non aver combinato nulla a roma si fa vedere fotografata con la sindaca col presidente del municipio di ostia che è uno dei municipi che insiste nel comune di roma la cosa mi fa venire il sangue al cervello mi fa ribollire se questi cretini continuano a votare il movimento 5 stelle a roma e nei comuni di roma se li tengano se li tengano di maio oggi è riuscito a dire effetto raggi esiste ma è positivo se qualcuno di voi è passato per roma nell'ultimo anno mi dica quale è secondo lui l'effetto raggi con questa faccetta diciamo arrogantella e di saluti che ci spiega cosa sta facendo a roma io non ho percepito nulla dura tanto la legislatura vedremo se nei quattro anni mi come posso dire mi cambierò idea sulla gestione di roma ma a me sembra che non stia cambiando nulla è fantastica il pezzo come sempre di gervasoni oggi che dice guardate che avete fatto una campagna elettorale dicendo che mafia la mafia le delinquenze tutto quanto può essere la vostra sarà un disastro totale ma certo non risolvete con onestà onestà così come non risolverete la questione di roma con lo slogan onestà onestà ha vinto la di pillo speriamo che questa professoressa di sostegno riesca a sostenere una delle città una dei municipi peggio gestiti di roma e già commissariati per mafia è una giornata che mi mette soltanto di cattivo umore l'unica cosa che vi segnalo oggi è l'intervista molto divertente a ricci uomo di sinistra patronne della distriscia la notizia che comunque è molto divertente sul libro perché dice sono stato troppo buono con i miei nemici perché se avessi distrutti tutto tutti non mi sarei più divertito direi che c'è poco da divertirsi vedendo i titoli di giornali e di oggi sto guardando disperatamente ma questo è un lunedì miserrimo ciao ciao